eccoci qui finita una skin adesso doccetta skin e ora nutrimento dall'interno collagene skin allora dicono che in due settimane va via la cellulite e che dopo si vede la differenza nel viso allora guardatemi bene perché dopo vi farò un video da così vicino senza trucco appena uscito dalla doccia e vedremo la differenza ok bacio a tutti ciao